Silvio Caragappa, voi valutate positivamente il risultato elettorale anche a Sciacca? Sicuramente Sciacca, al di là della grossa affermazione che va riconosciuta al Movimento 5 Stelle, noi per quanto ci riguarda come partito Udc siamo fortemente contenti del risultato. Peraltro il risultato, se poi va letto in ambito provinciale, è ancora più forte perché considerato che la lista raggiunge una percentuale del 12%, con quattro candidati che hanno davvero portato numeri molto alti, quindi ritengo che il risultato è abbastanza soddisfacente. Per quanto riguarda Sciacca, quali sono le prospettive di quest'area moderata? C'è anche un vostro appello a chi è rimasto nel centro-sinistra, avvenita dalla vostra parte? Guardi, io non sono abituato a guardare in casa altrui, però sicuramente una riflessione da questo voto va fatta. Va fatta anche perché intanto il fatto di aver raggiunto un obiettivo importante con la vittoria del presidente Musumeci è sicuramente un traguardo che tutti auspicavamo. Per quanto riguarda Sciacca, secondo me, un attimo di chiarezza va fatto anche nel rispetto, secondo me, degli elettori. Perché qui c'è un gruppo di opposizione che è stato negli anni sempre compatto. Noi abbiamo vinto, abbiamo perso, ma siamo stati sempre quelli. Oggi, obiettivamente, per questa competizione regionale secondo me i cittadini qualche difficoltà l'hanno avuto. Perché comunque, se andiamo a guardare gli amici di Alternativa Popolare che comunque andavano a votare i micari, che è lo stesso riferimento del PD, sicuramente questa cosa ha generato un po' di confusione nei cittadini. Motivo per il quale io voglio, perché non dirlo, lanciare anche una sorta di apertura nei confronti degli amici di AP e di vedere, così anche in prospettiva delle nazionali, di poter pensare anche ad un percorso comune che ci possa vedere tutti assieme e quindi anche in ambito nazionale poter vantare una vittoria per quanto riguarda il centrodestra. Lei rimarrà comunque con l'Udc e definitivamente chiusa la sua permanenza in Forza Italia? Ma guardi, io ad oggi non ho fatto il passaggio ufficiale perché comunque aspettavo il risultato delle regionali, perché per quanto mi riguarda io ho un'amicizia fortissima con Salvatore Iacolino e nei prossimi giorni valuteremo assieme al mio gruppo il da farsi, la prospettiva futura ma di certo io rimarrò nel centrodestra.